Nicola, guida. Salve. Allora, adesso dov'è che ci porti alla spiaggia? Ti porto alla spiaggia. Direzione guida, devo mettere. L'ho usata anche per i clienti questa parte. Sì, per accompagnarli in spiaggia. Grazie, amore. Aspettate qua vicino. Buongiorno. Un altro un po'. Buongiorno. E là dietro cosa dicono? Non lo so, sono in silenzio. Vagina, vagina. Vagino, vagina. Tiratevi che vi sto facendo il video. Fate un saluto. Ciao, miau. Buongiorno. Buongiorno, iniziate il meteo. È un po' serio, ormai. Gli ospiti? È il tempo, non aiuta. Privadi, privadi. Sono liberati questi, vero? Sì, questi con braccialetti con blu così sono dell'assoluto. Sono le case qui a destra. Ah, le case, sì. A destra, a destra, a destra. A destra? No, ci sono giusti, sì. Ci sono giusti. Ci sono giusti. Ah, ci sono diventavano una sorta di minire. Allora, signorina, vi fermo qui perché oltre non possiamo andare. So, nelasse? So.